Una domenica, quella di oggi all'insegna dei controlli per il rispetto delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria Covid-19. Siamo stati questa mattina a Taranto nei pressi del Ponte Girevole per testimoniare la presenza delle pattuglie in giro per la città. In particolare abbiamo riscontrato una intensa attività di controllo con numerosi posti di blocco da parte degli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Da domani, con l'avvio della fase 2 a seguito dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine al fine di evitare assembramenti e rispettare le norme del cosiddetto distanziamento sociale.